Ciao! Mini outfit of the night, è luna e mezza, sono appena tornata e però il trucco tiene ancora botta, bravo e faccio vedere molto al volo come mi sono vestita, sono andata in un locale con la mia amica non guardate il casino dietro, i gattini, il casino che ha fatto la Buffy, per Buffy e allora partiamo da sotto, queste sono delle semplici Mary Jane scamosciate marrone con il tacco bello largo comodo, che ho preso da Pittarello, questi sono degli skinny jeans stra elasticizzati molto comodi dei cinesi questa è una maglia che ho preso ai saldi l'anno scorso, ancora dei cinesi, mi è messa stasera per la prima volta con lo scollo che mi piace drappeggiato e queste maniche a pipistrello di voal, voal, tutte le leggere e trasparenti e la maglia è molto molto leggera, anche perché nel locale dove siamo andate se non c'era caldo e l'orologio della swatch e questi li ho presi da Cenemma, credo, sì e gli orecchini li avevo presi da, o da Bijou Brigitte o da Stella Z, uno dei due e questo è il famoso rossetto che dicevo della Kikol, stilo Unlimited, non mi ricordo insomma quello lì che dura tantissimo, non so se si vede l'ho messo alle otto e mezza, adesso è l'una e mezza di notte ho bevuto, ho chiacchierato, non l'ho mai ritoccato, non ci ho messo niente di niente è ancora qua, perfetto, immobile, non si è mosso niente e qua ho messo l'eyeliner dentro, infatti si vede che ha resistito di qua un po' di meno di qua un po' di più, però insomma tutto sommato le occhiaie quelle sono comprese nel prezzo e niente teniamo così e ecco, niente e così un esempio di serata molto scella, però sempre carino per noi curvy e adesso mi strucco vado a letto buonanotte ciao e baciotti ciao 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 ciao